Salve, 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 buongiorno, buonasera scusi Purtroppo la mia collega non c'è perché è impegnata insomma a delle cose personali, di lavoro, famiglia però la può trovare qui in negozio domani mattina volendo Guardi, al momento ci sono io, nel caso in cui ci dovessero essere problemi o qualsiasi altra cosa le do lo scontrino, le lascio lo scontrino montale che può ritornare in un altro momento dove c'è anche la mia collega insomma e se ho sbagliato qualcosa o magari non si è trovata bene, non è piaciuto il regalo o per qualsiasi motivo X può venire tranquillamente domani mattina e far reso se sa piacere insomma, se si sente più tranquilla o più a suo agio insomma come preferisce Certo, va bene, assolutamente, senza problemi Oggi chiudiamo alle 8 perché siamo ancora nella sessione estiva ma tra pochi giorni ci sarà l'orario invernale e quindi una volta cambiato l'orario insomma chiuderemo alle 19.30 come tutti i negozi insomma, si 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 Poi nel periodo natalizio ci saranno un sacco di articoli un sacco di altre cose che arriveranno sono anche casatissima e non vedo l'ora Certo Certo, certo, certo Assolutamente, anche con la sua famiglia Sì, sì, sì Va bene, allora Le tre tazze che avevo ordinato comunque sono arrivate e gliele mostro Se poi ha piacere di magari acquistare qualcos'altro vuole dare un'occhiata io le mostro tutto volentieri Certo Certo, certo Scusi ma a volte ci sono delle persone con o senza mascherina quindi do sempre un occhio Certo Sì, sì, sì Assolutamente Ok, allora Quella un po' più gettonata è ancora nel magazzino ma gliela prendo dopo non si preoccupi insomma Le mostro il primo acquisto L'ho tolto l'impallaggio per fargliela vedere meglio se non rendeva e magari rischiava di andare a casa e non essere molto soddisfatta del prodotto insomma quindi ho optato per questa opzione in modo da fargliela vedere subito Ok signora, prego Siamo vicini pure Allora la prima è questa Molto basic Molto anche minimal Se vogliamo però ha questo color panna che personalmente a me piace davvero tanto e ho fatto in città la scritta coffee in marroncino scuro come aveva richiesto e niente, è molto semplice una tazzina da caffè ma secondo me può andare insomma per le esigenze o quello che lei aveva richiesto assolutamente secondo me va più che bene Ok, quindi cosa faccio? La impallo? La preparo per dopo? Perfetto Ottimo Anche quando facciamo degli ordini poi la mattina solitamente arriva il corriere e c'è sempre un po' questo dubbio se poi al cliente piacerà oppure no quindi già il fatto che le è piaciuto tutto bene direi che va benissimo sono molto felice anche la responsabile sarà felice e domani mattina trova la mia collega Ok, allora questa la metto da parte e le faccio vedere le altre due Perfetto Per queste qui signora ha avuto un sacco e un sacco e un sacco di fortuna perché erano gli ultimi due pezzi rimasti altrimenti avrebbe dovuto aspettare all'incirca un mesetto e non mi sento neanche abbastanza allora la prima è quella con il colore verde acqua azzurrino che aveva richiesto anche insieme a suo marito ed è questa io la trovo particolarmente raffinata semplice ma molto 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 bella mi piace veramente tanto trovo che abbia fatto un ultimo acquisto in realtà questa è una stampa molto classica che può trovare anche in altri negozi in realtà però di questa colorazione e di questa tinta ne sono rimasti veramente pochi pezzi sa quindi è stata molto fortunata ok mentre l'altra insomma gliela mostro ma rapidamente perché quella è questa è come quella che aveva scelto scusi che ok è come quella che aveva scelto soltanto in grigio e questa è un po' più spartana insomma però non è male nemmeno questa perfetto quindi queste tre le impallo per dopo e mi ha detto che vanno bene insomma a posto sì quella grigio effettivamente è un grigio un po' però le lascio una tazza ma ho visto che ci hanno messo un giorno in più ad arrivare io e la mia collega insomma qua al negozio abbiamo pensato di lasciarle un piccolo presente visto la sua gentilezza la sua disponibilità ecco allora gliela mostro ok questa in realtà è una tazza una tazza molto comune per fare colazioni per mettere il caffè latte se vuole è molto bella è fatta in questo modo aspetta che scatola fotografia ok è fatta in questo modo ed è veramente molto bella è di questo bellissimo colore molto tenue che è uno dei miei preferiti tra l'altro con questi semplici poids come fantasia però si fidi di me che è una delle tazze che abbiamo più venduto in assoluto in negozio quindi sì spero che apprezzi questo questo nostro omaggio insomma questo questo nostro presente ecco allora la borsettina è pronta le ho lasciato tutto quanto però se ha piacere posso farle dare un'occhiata magari per qualche novità qualche nuovo arrivo qualche tazza in sconto qualche promo ne prendi due e ne paghi soltanto una insomma quelle quelle che fanno adesso insomma le tipologie che trova adesso se ha piacere se non ha fretta se se si sente a suo agio insomma magari ci mettiamo di là nell'altra stanza e e mi dice pure altrimenti se invece è di fretta e preferisce portare a casa quelle quattro tazze lì va benissimo insomma dell'incarto e e ci vediamo la prossima volta ecco sì certo guardi nessun problema va bene allora mi sono rimaste quattro tazze otto totali quindi se piace le mostro tutte quante tanto sono anche molto veloce e sono anche abbinate a coppia tra di loro quindi le mostrerò anche in questo modo spero che le piaceranno insomma a me insomma qui in negozio ci fa piacere anche dare la possibilità di farsi un'idea magari per un regalino futuro o per la prossima volta insomma se a piacere di acquistare qualcosa o magari se vuole consigliarla a qualcuno in particolare ecco sì ne ho una bellissima per la cioccolata calda anche per questo inverno sa piacere da dio da dio questa l'abbiamo presa a merano ed è ce l'hanno regalata insomma nel 2017 e questa qua come vede c'è tutta la città e le stelline appese è l'edizione del 2017 2017 è veramente molto bella soltanto che è una tazza molto piccola in realtà perché vede questa è la mia mano è molto piccola soltanto questo però per una cioccolata calda o magari una non lo so una bevanda calda d'inverno con questa trama molto particolare può essere di spiegazione insomma diciamo che questa qui non è apparezzata da tutti però ha un significato un po' particolare no? e quindi magari in futuro sa che ce l'abbiamo ecco certo esatto a proprio ok questo qui invece è una sorta di pezzo raro da collezione è un po' particolare perché è di un colore blu molto molto scuro e potente anche con dei piccoli dettagli con dei draghi molto fiumelli d'oro quindi torati e due scritte qui hamburg eccola qua e niente qui mi dispiace mi dispiace davvero tanto ma adesso devo chiudere perché per un insieme di motivi non posso tenere più a parte il negozio mancano 5 minuti e siamo nel momento della chiusura mi scuso anche per questo brusco a mia mente saluto ma purtroppo devo chiudere le mostro velocemente le danze così per la prossima volta può venire quando vuole e sa che abbiamo anche questi modelli allora il primo è la modalità emoji queste sono molto belle ne ho tantissime questa qui in particolare ha la goccia gli occhietti e la bocca super particolare se sente dei rumori c'è la mia cagnolina quindi mi scusi qualche zampetta qualcosina poi ho la versione in giallo della tazza che le ho mostrato prima molto particolare sempre con i bua neri in questo caso un giallo molto bello le mostro la mia cagnolina aspetti eccola qua voleva salutare ops voleva salutare anche lei vero? vero che volevi salutare anche tu ogni tanto vedi qui fa irruzione c'è sempre qua nei miei video vero? la tazzina è un'altra tazza è questa questa qui da caffè molto particolare e un'altra è questa con 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 queste tazzine sopra super particolare piccolina anche questa poi aspetti che ho la cagnolina qua che fa la pirichina poi ho anche questa qui con i fiorellini in questo modo super romantica anche è una tazza molto bella sentiamo la mia cagnolina cagnetta ciao 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 ok stavo dicendo che ho questa qui con i fiorellini un po' particolare insomma poi questa qui come ho già visto prima con il caffè proprio super originale anche per un regalo e le ultime due sono questa qui con cuccia questa qui con le palme molto particolare molto bella sempre da caffè e infine ho questo modello qui con i fiorellini molto 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 particolare anche questo molto bello super super particolare infine ho un ultimo modello da mostrarle e le mostro subito è questo qui questa è una classica tazza da tè molto bella semplice con i dettagli argentati super particolari veramente molto bella comunque signora io ora devo chiudere mi dispiace e mi scusi anche per questa fretta finale ci rivediamo una prossima volta quando avrà tempo noi siamo sempre aperti anche la domenica le ho imballato le tre tazzine e se ha bisogno di qualsiasi cosa domani c'è la mia collega ma mi ha detto che si è trovata molto bene anche con me quindi la ringrazio davvero tanto buonanotte pasticcini ci vediamo domani alle ore 14 con un prossimo video chissà magari ASMR ciao buonanotte 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 buonanotte